Grazie, grazie per avermi invitato. Sono veramente felice di essere con voi questa sera, grazie per l'invito e di condividere con voi quella che è stata la mia esperienza. Ho incontrato in realtà Herbalife nella prima volta nella mia vita, quando ero poco più di una ragazzina, e sono stata rinvitata a una sessione informativa proprio come questa, però all'epoca erano in presenza. Entrando in quella sala mi sono subito sentita a mio agio, mi sono subito sentita nel posto giusto e soprattutto ho visto in Herbalife la possibilità di risollevare la situazione della mia famiglia, perché in quel periodo non vivevamo in una situazione economica facile, era anzi piuttosto difficile, e ho visto in Herbalife la vera possibilità per noi. E devo dirvi la verità, così è stato, perché nel primo anno e mezzo io insieme a tutta la mia famiglia, ho coinvolto mia madre nel progetto, abbiamo raggiunto il livello del ghettismo. Per cui ho raggiunto il ghettismo a poco meno di 20 anni, con un ghettismo in prima linea. Mi sembrava incredibile, ma soprattutto questa Herbalife mi aveva dato vita a quella iniziale speranza che avevo visto in una querme. Per cui se anche tu sei qui per la prima volta, ti sembra tutto strano, ma dentro di te è qualcosa che è piaciuto, sei vero nel posto giusto. Io all'epoca, dopo aver raggiunto questo traguardo, ero ragazzina. Volevo essere sicura di meritare quel traguardo così importante che avevo raggiunto, per cui ho deciso di abbandonare il progetto di Herbalife, sbagliando chiaramente, e di rimettermi in gioco nel mondo del lavoro tradizionale. Mentre i miei genitori hanno proseguito con successo la carriera in Herbalife. Devo dirvi la verità, mi sono realizzata anche nel mondo tradizionale, lavorando nel mondo della moda, che era la mia passione da sempre, e sono diventata store manager di un negozio di oltre 2.000 metri quadri con oltre 24 dipendenti. Mi sentivo veramente fiera di me stessa e realizzata. Ero riuscita a realizzare una cosa importante anche in un altro settore oltre quello di Herbalife. Nel frattempo ho conosciuto anche mio marito e in quel momento è ritornata Herbalife per la seconda volta nella mia vita, in una maniera un po' particolare in realtà, perché con l'arrivo della mia prima gravidanza è stato proprio il ginecologo a suggerirmi di utilizzare gli integratori. Chiaramente non ce l'avevamo in famiglia, li conoscevamo da tanti anni, per cui ho utilizzato sul controllo del mio ginecologo per tutti i 9 mesi i prodotti di Herbalife. Mi sono trovata veramente da Dio, non ho avuto nessun tipo di problematica, è stata una gravidanza serena, mi sentivo energica fino alla fine, ma la sorpresa più grande è stata subito dopo il fatto. Ritornare velocemente nella mia forma fisica ha innescato in maniera automatica e semplice il business, senza che io me ne rendessi conto, perché le altre mamme volevano tutte sapere quello che io avessi fatto, le mie colleghe del negozio volevano tutte sapere come avessi fatto a ritornare velocemente nella mia divisa da store manager e così semplicemente presentando le persone che mi chiedevano informazioni al mio coccio, che nel mio caso era anche mia madre, poi mi sono ritrovata a guadagnare 1200 euro dal divano di casa con il bambino in braccio. È vero che non avevo problemi economici e che avevo contratto a tempo indeterminato, però i perlì mi hanno incuriosita queste 1200 euro. Mio marito era super scettico, lui era abituato a un carabiniere, a un posto fisso, avevamo due posti fissi in famiglia e noi pensavamo che quello era la famiglia ideale, due posti fissi e non hai problemi, perché quello ci avevano insegnato sin da piccoli. Però io mi ero incuriosita in realtà. In realtà mi sono incuriosita ancora di più il secondo mese, perché tutte le persone avevano finito i prodotti, quindi semplicemente riordinando i prodotti per le persone mi sono ritrovata nuovamente 1200 euro. Lui, lo scettico, diceva che sarebbe finita, che era una cosa temporanea, che non li avrebbero comprati per sempre e quindi mi teneva molto giù con i piedi per terra. Però sapete cosa è successo? Nel terzo mese queste persone le avevano perso peso anche loro, si erano rimodellate, avevano più energia e ognuna di loro, grazie al passaparola per il risultato ottenuto, mi presentava delle altre persone. Questo mi ha permesso di guadagnare 2400 euro. E lì sfido chiunque, anche se è un posto a tempo indeterminato, guadagni bene a non volerne capire di più. Per cui non ho ascoltato più mio marito, mi sono messa in macchina, ho messo anche lui in macchina, siamo partiti da Lecce per andare a Bologna a vedere un corso di formazione e a capire come realmente avevo guadagnato questi soldi. Se c'era effettivamente una possibilità di guadagnare regolarmente queste cifre, e lì in un corso di formazione, non lo dimenticherò mai, quando sono entrata in quella sala, mi sono vista 10.000 persone felici, entusiaste, e guadagnavano tutti benissimo. Per cui ho iniziato a sognare che questo Herbalife potesse, per la seconda volta nella mia vita, essere anche per me una vera e propria svolta. Devo dirvi la verità, in quel corso di formazione ho capito che qui c'era la solidità, che cercavo un'azienda sicura, un'azienda stabile, prodotti eccellenti, e che soprattutto avevo l'opportunità di aiutare altre persone a migliorare la propria situazione economica e la propria situazione fisica. Tornata da lì ho deciso di prendere due anni di aspettativa, o la va o la spacca, ho detto voglio fare Herbalife, voglio almeno provarci. Vi dirò la verità, sei mesi prima dei due anni avevo già raggiunto il livello del Global Expansion Team, con guadagni da 3.000 euro al mese, per cui mi sono potuta licenziare ed essere finalmente una donna libera di gestire il proprio tempo, di gestire la mia famiglia, le mie passioni, e in 8 anni, da 0 ad 8 anni, ho raggiunto questo livello del Global Expansion Team. Oggi la nostra vita è fantastica, viaggiamo per il mondo, sono presente nella vita dei miei figli, e pensate che non guadagno mai meno ogni mese di quanto guadagnavo prima 4 volte dal mio stipendio da store manager, per cui i miei guadagni vanno da 8.000 euro in su ogni singolo mese. Non posso che ringraziare questa fantastica opportunità che Herbalife ha riservato non solo a me, ma a chiunque la voglia di mettere il naso e provare ad essere un po' curioso. Per cui grazie Herbalife e lascio la parola a Luana. Grazie.